Buongiorno a tutti e buona emacolata. Mi chiamo Giovanna Finocchiaro e sono un'autrice di poesia della provincia di Torino. Quest'oggi voglio ringraziare prima di tutto Stefano per lo spazio che mi ha concesso sul suo canale YouTube e raccontarvi molto brevemente qualcosa del mio nuovo libro, Ramificare, appartenente alla collana quaderni di poesia di Eretica Edizioni. Questo libro parla dei miei sentimenti e ho scelto il verbo ramificare proprio perché ho la sensazione netta che finalmente da un periodo un po' buio della mia vita a questa parte io stia permettendo alla mia emotività di crescere, di esplorare e di lasciarsi anche nutrire dal mondo esterno, quindi volevo rendere un'ora a questo cambiamento. Sono poesie basilarmente d'amore, non pensavo nella mia vita che avrei mai scritto un libro d'amore perché credevo che fosse un argomento troppo inflazionato, un argomento troppo gettonato su cui si era già detto tutto e di sicuro non avrei potuto aggiungere nulla a questa immensa, meravigliosa esperienza letteraria che è appunto quella amorosa. Tuttavia raccogliendo pian pianino i miei scritti di questi ultimi anni mi sono accorta di aver scritto tantissimo riguardo all'amore, in particolare a questa mia ultima storia che ancora sto vivendo felicemente e mi sono accorta che tutto era fuorché diciamo l'assetto classico che credevo sarebbe risultato nello scriverne. Un giorno il mio amore era più malinconico, un giorno il mio amore era più romantico, un giorno più passionale, un giorno arrabbiato, un giorno irritato, un giorno pensava più a se stessa, a se stesso, un giorno invece era più propenso ai bisogni dell'altro, un giorno si proiettava nel futuro, quello dopo magari nel presente o nel passato forse anche faticosamente e quindi ho pensato davvero che tutto sommato se l'amore è ancora così tanto importante, così tanto ispirante per i lettori, per le persone in generale nella vita è perché non se ne parla mai abbastanza, è perché è un piccolo universo in cui viene racchiuso praticamente tutto quello che è il nostro scibile emotivo, il nostro scibile sentimentale quindi nell'amore ci sono tutte le altre emozioni, tutti gli altri sentimenti e per quanto comunque le storie si possano assomigliare restano comunque uniche e quindi ho voluto davvero rendere onore alla mia liberarla per mettere al mio cuore, per mettere a tutti i segreti che tenevo dentro di avere il loro spazio e di poter raccontare quanto in questo momento davvero l'amore faccia parte della mia vita con forza e che non va semplicemente appunto a toccare i temi del romanticismo ma che si proietta proprio all'interno di una sfera emotiva che poi è quella umana, non soltanto legata alla storia di per sé quindi come una sorta di angelo custode che accompagna un pochino tutte le nostre azioni nel momento in cui c'è una persona speciale nella nostra vita e ci porta a cambiare, ci porta ad essere veramente delle persone più dinamiche e a sfidare anche quelli che sono i nostri limiti perché un amore deve necessariamente crescere e progredire, non rimane mai fermo e non rimane mai in qualche modo incollato al suo presente ma è sempre un costante cambiamento in noi stessi e nella vita quindi di conseguenza. Per cui eccoci qui e vi ho raccontato qualcosa del mio libro Ramificare, vi leggo brevemente la poesia in copertina e spero insomma che non solo per questo Natale ma in futuro possiate trovare una piacevole lettura nelle sue pagine Onestà di sangue nei miei occhi si riflette nei tuoi e la osservo la ramificare Buona festa a tutti e grazie ancora, arrivederci!